Un brano famosissimo della volta della Cappella Sistina. Abbiamo già visto in una supposizione precedente, in una storia supposta precedente, abbiamo analizzato delle cose strane. Per esempio, l'albero della conoscenza non è il melo, come noi pensiamo che sia, ma è un fico. Entrambi, Adam e Eva, si sporgono, si allungano per prendere il frutto del peccato, cioè i fichi. I fichi, già nel nome, fa sorridere l'analogia, ma anche il frutto ha analogie con parti del corpo umano. Dopo ve lo spiego meglio. Ma andiamo in profondità. Quest'immagine strana in cui Adamo si sporge, sporge il suo sesso verso Eva, verso il viso di Eva, allude a qualcosa. Ma attenzione che nella Bibbia c'è scritto, per esempio, Caino conobbe sua moglie e generò dei figli. E ogni volta che un uomo conobbe, conosce una donna, allude significa testualmente che fa del sesso con lei, a scopo riproduttivo, a scopo... Quindi, conoscere vuol dire fare l'amore, unirsi sessualmente, carnalmente. Quindi, la supposizione di oggi è questa. L'albero della conoscenza. Che albero sarà? Che albero è? Se nella Bibbia, conoscersi vuol dire quello. E poi, ad aggiungere ancora qualcosa, pensiamo che dopo che Adamo ed Eva mangiarono il frutto del peccato, si vergognarono, si accorsero di essere nudi. Cosa era successo? Cosa... Che conoscenza è? Bene. Se la supposizione vi è piaciuta, e se fa riflettere, e se vogliamo andare avanti nelle esegesi, nei racconti, nelle storie supposte, chiedetemele.